Una bazelletta su chi? Su Berlusconi. C'è un aereo in viaggio sull'Atlantico e nell'aereo ci sono Joe Biden, Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, il Papa e un suo giovane assistente. A un certo momento i piloti si accorgono che per un errore tragico è stato riempito solo un serbatoio. Guardano il consumo fino a quel momento e capiscono che entro 5 minuti l'aereo precipita nell'oceano. E allora? E allora il pilota dice tiriamo fuori i paracaduti. Prendono i primi due, ce li mettono e poi gli dai altri 5 agli altri. No, guardi, capo, ma ce ne sono rimasti solo 4. Come mai? Eh, non so, c'è stato un errore. Ma va bene, dagli 4 si arrangeranno loro. Allora, dai i paracaduti, Joe Biden ha ferro il primo e dice questo tocca a me perché sono l'uomo più potente dell'Occidente. Vladimir Putin prende l'altro e dice questo aspetta a me perché sono l'uomo più potente dell'Oriente. Silvio Berlusconi si va avanti e dice questo aspetta a me perché io sono, lo sanno tutti, il politico più intelligente del mondo. E l'assistente guarda il Papa e gli dice ecco santità il suo paracadute. No, grazie caro, guarda, io sono vecchio, ho vissuto una vita lunga e felice, mettitelo tu. No, ma guardi che ne sono rimasti due. E come mai? Eh, perché l'uomo più intelligente del mondo, il politico più intelligente del mondo, si è buttato col mio zainetto. Vi piace? Benissimo. Allora state attenti quando sarete sull'oceano di controllare bene che ci siano tutti i paracaduti. Adesso vogliamo dimettere un paracadute alla nostra Italia che in questo momento non va tanto bene, ma la faremo andare bene, anzi la faremo andare meglio. Tic toc tac.